...delle stagioni, non ha mai perso la propria intensità, per quante volte si siano scontati... Roberto Maggio! E c'è il cuorlo! Un gol che ha una dimostrazione di leadership, il capitano apre le danze e dà l'esempio a tutta la squadra, grande inizio! Diro violentissimo, bisogna controllare che non abbia spaccato la porta come nei cartoni animati. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. ...pelo giocatore, camisa 10. ...delle stagioni 1. ...delle stagioni. ...delle stagioni. Grazie a tutti